Don Roberto, nella testa ufficiale di Paso, è alla parrocchia la campana che è stata sistemata dal nostro restauratore qua di Marguzio. Vi inviterei Don Roberto per quanto riguarda l'apertura e lo spoglio della campana, e vi passo la parola a Maria Teresa che continuerà per quanto riguarda la serata. Mi hanno fatto notare che è l'ultima festa gratuita del Saluto e quindi lo faccio volentieri. Prima di svelare la campana vorrei dare anch'io un caloroso benvenuto a Don Federico, perché ci fate venire stasera, all'amministrazione che ha sostenuto fortemente questa iniziativa, il restauro di questa campana, Massimo che anche lui ha sostenuto tanto, e poi tutti voi che siete venuti, numerosi, stasera è un buon inizio per le tre giornate, e diciamo che vivremo qui a Marguzio, anche insieme con questo piccolo gruppo di parrocchiani che vive qui, e così ha la possibilità di vedere anche un po' più gente del solito e fare un po' di testa, in questa occasione speciale. e avranno anche l'occasione di ritornare a sentire un po' i rintocchi della campana, perché è stata ferma, zitta, per due anni, perché rischio che succedesse qualche cosa di più serio. Adesso così potrà riprendere i suoi tocchi, ma non spreco altre parole, adesso la svegliamo. Grazie per la vostra partecipazione a questa serata.